Un grande sforzo da parte della nostra emittente per arricchire l'offerta calcistica. Ogni domenica verrà trasmessa una diretta che riguarderà le squadre del nostro territorio che militano nel campionato di Serie D. Appuntamento fisso per le partite del Rezzo in trasferta e poi a turno toccherà Città di Castello, San Giovannese, Terolo, Atraiana e Trestina. Teletruria, visibile in Toscana sul canale 16 e in Umbria sul canale 88, intende così allargare il suo raggio d'azione coinvolgendo tutte le realtà che sono protagoniste nel campionato d'Italia, così è chiamata la quarta serie. Si inizia domani in anticipo con la partita Orvietane-Arezzo che andrà in onda tra l'altro nel corso delle 50 ore della giostra del Saracino, visto che è sempre una disfida speciale. Domani avremo il gemellaggio tra giostra e calcio. Poi ogni domenica nell'ambito di Domenica Sport avremo collegamenti e interviste nei campi dove ci sarà la diretta. Teletruria ha acquisito anche gli highlight della Serie C per le partite del Montevarchi e dell'Arezzo Calcio Femminile che partecipa per la prima volta al campionato di Serie B donne.